Facciamo questa presentazione. Buon pomeriggio! Siamo da Katia! E ripiove! Piovicica a dire la verità. Ancora non è sceso il diluvio. Novità in casa Katia. Quindi giro la videocamera e adesso vi faccio vedere. Sì! Ok, iniziamo dal centro stavolta. Che carino! Verdino, il verde è un po' il colore che sta andando questa primavera estate. Ho visto tanto verde in giro. Sì, ci piace molto. Sono sincera. Mi piace molto. Carino, carino, carino. Io lo trovo molto delicato. Ciao belle, ciao Ire. Ok, sempre da questa parte. Ci abbiniamo questa borsa. Cappuccino. Tutto il verde. Ci abbiniamo cappuccino. Ci abbiniamo cappuccino. Va bene. Cappuccino al colore. Perché è un colore che mi piace. Borsi ne hai prese? Perché prima che si connette Loredana fa pandan col telo. La borsa fa pandan col telo. Fa troppo pandan col telo. Altro verde. Con la manica un po' a pipi. Strello. Sì, è un po' più fissato. Ciao ci sono. C'è Sabrina Donati. Ah, Sabrina. C'è anche Marianna. Ciao, amore mie. Ciao Marianna. Perché ci siamo contattate proprio oggi. Allora, questo ce l'ho anche con la base arancione. Nuovo l'abbiamo preso. L'abbiamo. E credo che tu abbia pubblicato una foto con Chiara come modella. Sì, brava. Quanto sono brava. Sei stata attenta. Eh certo, ho studiato. Se non ho vengo. Ho studiato. Lo sapevi che avevi la pagella? Eh certo, potevo avere la pagella. Siamo a fine anno. Siamo. Becco la pagella. Avrò la mia pagella. Non lo so se ti metto brava in condotto. Oh mio Dio. Un cano. Via. Un canello. Pina M ciao. Siamo da Katia al Joach. I vari abbinamenti. Bianco e verde. Più fresco di questo non ce n'è. Non ce n'è. Adoro bianco e verde. Oh guarda, i pantaloni. Tipo una sorta vita alta con risvoltino sotto. Molto molto carini e freschi. Mi piace. È un accostamento bianco e verde che vedo molto su Instagram ragazze. Veramente tanto. Bionde, more, rosse. Finisco di far vedere il verde. Magari in alcune cose si possono riprendere. Però magari come dici tu e Musa, non tutti guardano lo sempre. Ci piace. Ok? Sì. Ora queste, diciamo, ovviamente qui ci sono altre cose, ma queste sono quelle delle novità. Che cos'è quella, buona? L'avevo già provata? Quella a portafoglio? No, no, no. Sì amore, tu l'hai provata con il begiole. Questa l'avevamo vista. Questa l'avevamo vista, ma la possiamo far rivedere. Mi piace un sacco. Bellissimissimissima. Ovviamente ci si abbinano tutti i topini che hai. Certo, perché la puoi mettere a vita alta, si intreccia intorno alla vita, insomma, intorno alla figura. Sarà la vecchiaia? No, è il caldo. È il caldo, ok. Ti confermo Katia che è il caldo. Bellissima quella canotta con il pizzo. È un po' umido, è un po' umido, deve essere un altro po'. Infatti ci accide, ci accide e di quel che c'hai vedo del celestino, ino, 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 celestino, ino. Ci piace. Ma me lo immaginavo, guarda. Ti chiede chi ama la ragazza nel camerino. Mi piace molto queste giacche, ragazze, ve lo posso dire? Fall in love, mi sono appena innamorata. Ok, sta arrivando. Guarda che carina queste scatte non te l'aveviste. Cara, ce l'ho già da tempo. Allora, amore, butto. Mi piace. La amo già. Con un top biscotto, panna grigio o anche celeste. No, vabbè. No, vabbè. Dov'è Cappuccino? Avevo già, diciamo, fatto. Il nostro Cappuccino a lei. Cappuccino, mi piace. Che eleganza, anche per andare in ufficio. Tantalone. Questo è quello che aveva visto Sabrina, mi sembra. Sì, infatti. Non vorrei confondermi. Bellissimissimo. I vari clienti che hanno fatto richieste. Bellissimissimo. Una magliettina in filo, molto leggera. Vedo. E ribatto. Una magliettina in maglina, veste benissimo, leggera, comoda, fresca. Che bella sta giacca. E chiaramente, questa giacca è splendida. E aspetta, c'è anche questa versione qui, eh? Ah, ma ce n'è un'altra. Ah, certo. Io pensavo che erano uguali, non ho visto bene. Non è visto. Sono belle entrambi. È scelto allora. Lì c'è del fango, in realtà. Esatto. Invece quell'altro c'è più il biscotto. cammello. So, via, chiaro. Ma mi manca che gli strizza pure qua la vita. No, no, non strizzo niente. Eh, come normale. Strizzo il collo. Bene. Il colletto è molto particolare. Allora. Madonna mia. Poi. Poi. Che faccio? Tolgo queste? Sì. Ah, ok. Via. Non rischio adesso. Change. 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 Veloce. 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 C'è un azzurro, giallo, rosa, viola, vece, tutto. Piace, piace. È carino. Sì, molto fresco. È l'ulsa. È fresco. Bene, bene. Poi. Oh, che bello. Queste sono le pombo che io amo. Mamma mia. Giacchina a rete lo adoro. Wow. Wow. Il pizzo riprende. Adoro. Ciao. Ciao, io scusi, ti accoggi a Katia? Sì. Ciao, il corriere. Ah, ciao. Ragazze, continuiamo con questa diretta. Sì. Anche perché alle 18.30 devo prendere un video. Però ce la facciamo qui, eh. Allora, ragazze, ritorniamo a noi. Stavamo facendo vedere con Katia perché il corriere ha appena comprato un vestito. Esatto. Senti, è una ragazza annusa. Allora, ragazze, è entrato il corriere, ci siamo interrotte con la diretta, la stiamo riprendendo per quella storia che mi era sparito il pacco, che poi avevo fatta arrivare al negozio di Katia. Perdono ogni giorno, appunto, dell'orura. Nel frattempo, mentre stava qui, ha visto un vestito per la moglie e l'ha comprato. Va. Ecco. Va. Ha detto hai perso il pacco e hai acquistato il cliente. No, è stato simpatico perché poi ha aggiunto. Dicevo. Mi sono venduto occhiali, tra l'altro mi compro il vestito. Sì, ho venduto il pacchetto suo e ho comprato il vestito a mia moglie. Vabbè, stavo troppo forte, poi abita qua vicino, ha detto che tornerò a trovare. Ok, allora. Abbiamo acquistato anche un amico dei gemelli. Gemelli. Allora, ci ha fatto ammazzare dalle risate. Carino, sì, molto carino. Andiamo avanti. Viva i giovani, ragazzi. Viva i giovani, 27 anni, molto, molto giovane, molto simpatico. Purtroppo mi ha sparito il pacchetto, non ce ne potremmo fare niente. Abidino, molto semplice. Abidino, molto carino, sobrio. Sì, è leggerissimo. Lo vedo anche con le converse. Che si può mettere assolutamente sì. Ok, con gli stivaletti che hai tu ai piedini. Molto bello con cinta in vita e borsetta color cappuccino. Ho finito le borse celeste. A proposito, mamma si è portata via quella che gli eri regalato tu. Qual è? Quella celeste. Ah, gli è piaciuta la borsa. Sì, se l'è portata via in vacanza. Lo sai che è andata in vacanza? E le è piaciuta? Allora. Che dici, me la posso prendere. E prenditela. Va bene, che mi importa? E muzza. Andiamo avanti. E muzza non fa niente. E muzza non fa niente. Che ho regalato a Katia la mia borsa, invece se l'hai presa la mamma. Va bene, tutto in famiglia. Tutto in famiglia. A me non ha in porta. Ma io manco me l'ero ricordato che t'avevo dato quella borsa, sinceramente. Eh, va bene, te lo ricordo io, però. Eh, figurati. Carino il jeans con risvoltino, lo sai. Lo vedo con dei stivaletti di cammello. Non so perché mi vengono in mente. Forse perché anni fa li avevo. Bella anche la connellina con i fiori tra il celeste e il blu. Allora, io faccio un po' tutto, eh. Mi piace, mamma Katia, mi piace da matti. Questa se la vede la mia collecuccia. È carino. Che sta passando il weekend fuori, domani non ci sarà con me. Ciao, Marci. Domani non c'è. Eh, domani sei da sera. Carino. Molto, molto carino. Bella la borsa, quella è il beige. Quanto costa? E cappuccino, l'ho ribattezzata cappuccino. Se la prendi in adozione, mi devi promettere che la tratti bene. Quanto costa la borsa? È bella anche quella. È bellissima, è rifinita molto bene, ragazze. Alla catena nera la puoi mettere con l'oro e con l'argento acciaio. Perché la catena nera non disturba. Sta bene con tutto quanto mi piace cappuccino. Che mi ricordi questo? Sono tornati. Sono tornati. Ma tu avevi un giacchino in una foto che io mi ero innamorata. Guardi, amore. Con il colore che mi sta piacendo in questo periodo. Lo sabbia. Sabbia. Ce n'è rimasto una in vetrino. Lo avevi su. È semplicissima, bianca di un filo. Ci piace. Queste sono quelle che i magli che riesci anche a mettere con le gonne a pieghe o con le gonne a ruota. Bellina. Ciao Katia. Arrivo, eh. Ciao. Madonna mia. Bella. Mi piace molto. Questo anche con la borsa. Tira su borsa cappuccino. Aspetta, allora, visto che c'è un spazio qua. Perché è andato via. Vi lascio guardare, eh. Arrivo subito. 200 ci manteniamo in quest'angolo. Manu, che fine ha fatto? Qui si sono vertite le cose. Vedo più tu madre che te. Bello, perché questa borsa riprende questa maglia. La borsa è veramente bella, ragazze. Per il prezzo che ha, veramente bella. Vi dico che tante ragazze l'hanno comprata. Bella. Sì. Stavo facendo vedere che quella maglia sta benissimo con la borsa cappuccio. Ma tu non l'hai visto? No. Cattiva che sei. Meraviglia delle mer... Madonna, lo amo già. Madonna, io ho questo colore sotto. Aspetta, sposta di là, se no riprendo la signora. No, lei più che altro mi sta. Mi sta a tiro. Katia, tu hai detto di là. Ma è un giacchetto o un vestito? No, è un... Questo è un gilet che... È un gilet lungo. È un gilet lungo. E Katia sa che io amo queste cose. Non lo vinti anche come... Con un vestito bianco, con una minigonna, con i pantaloncini, con i jeans strappati, con un abitino. Con tante cose. È vero. È un cacendere. No, lo sai che è un mico. Ci piace. Mi sta, mi viene. Mi piace. Sì, anche a me è molto bello. Brava, brava. È rimasto uno, ne è rimasto. Pantaloni celestini. Li vedo lì. Sì. Belli quelli, lo sai Katia? Beh, faccio anche così. Belli, belli, belli sti pantaloni. Molto belli. Poi c'è pure qualche vestito... Aspetta, mi metto così così non riprendo la signora perché sennò poi non lo posso... fermare il fresco, fresco, poi ci mettiamo sinistra. Sì, bello. Anche per le donne curvi questo. Esatto. Bene. Bene, poi in quest'altro lato qui... Lì abbiamo fatto vedere tutto, giusto? Sì. Katia, no Katia, io questa... Guarda, Katia me la devo provare. Assolutamente sì. Ma io lo sapevo. Già l'amo. Katia, cioè io ho questa gonna. Io lo sapevo. Io lo sapevo. Voglio morire. Questa gonna è andata. Via. Su, me la provo a casa e faccio le foto. Brava. Bella. Che gioco. Pantalone sul tagli. Lo adoro. Bello. Bello. Ciao ragazze. Mi piace. Sta gonna è proprio il mio stile. Guarda un po'. Ma senti che tessuto che c'è? Molto leggerissimo. No, perché è leggerissimo. Guarda, mia figlia c'ha quel pantalone. Non so chi sei. Io sono io ben fatti. Che l'apprecio dai. No, chi osce, chi osce no. Abbiamo delle clienti qui. E lei... Ascoltate. Ascoltate i feedback delle clienti. Dai un inizio, vai. Io, Dio, la voglio buttare. La voce del popolo che dice che il negozio è di Katia, eh? E lei dice, mamma mia. Avete sentito? Bene, andiamo nell'angolo, sì, lasciamo la signora. E la gonna me la metti lì che me la blovo. Oddio, che bello. L'hai presa per me, dillo. Ma secondo te mi va bene o mi va larga? Tittiri, tittiri, tittiri. Già, mi ci vedo. È molto chic. Signora, ci si mette la cinta. Ad oggi vanno. No, non ti percivale. Che attiussi, eh? Arrivo! Allora, carrellata di cose che abbiamo già visto e rivisto e che so che avete due o tre di voi. Hanno acquistato questa combo in blu che Katia ha ripreso. E ve la faccio vedere perché vi aveva detto ad alcuni di voi che erano terminate. Tra l'altro c'è questa meravigliosa blusa in arancio che Katia sta indossando in color marroncino beige, sì. E anche queste le ha prese arancio. Poi c'è sempre la giacchetta, ne è rimasta una, questa arancio molto bella che indossavo nell'ultimo video che ho girato per lei. Mamma, bella sta gonna. Katia, mi piace da matti la gonna col top fucsia. Blu e fucsia insieme con del rosa. Che bella sta gonna. Che colori. Auguri, Loredana! Oggi è il tuo compleanno, mio figlio l'ha fatto il 28, perché anche lui è gemello e i gemelli il 28 di maggio. Bello, 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 bello. Ci piace Katia, ci piace. Non c'entra niente, ma oddio no, guarda, questo se l'ha trova la signora, guarda come mi ha rimesso. Vabbè, che c'entra? Belli, falli vedere in piedi questi pantaloni. Sai che sono belli, mi stanno piacendo tanto, sono freschi. Colpa al cuore sta giacca ogni volta che ha avuto Katia. L'ho ripresa! L'amo! Oh, mi piace un sacco. È bellissima. Basta. Poi guarda. Ci ha preso pure il pantalone. Ma a me vuoi far morire di infarto? Questa a me sta lento. Sì, per te sicuramente. Vero, anche se io li porto morbidi, cattiva. Cattiva. Bello pure questo. Mamma mia, che colpo. Che colpo. Mary Lee Morro in arancio. Bello, lo sai? Fammi vedere. Sta bene, no? Non lo so. Lo so, lo so. Mi piace quando le persone sono belle dritte. Sì, hai visto? Provati pure questo, un bel colore. Mamma mia, a me mi piace questo vestito. Però è troppo... Poi, che altro abbiamo di nuovo da queste parti? Ecco, mi arrivo. Aspetta. Sì. Bello, mi piace. Bello, bello, bello. Bella sta blusa, lo sai che ha? Mi piace. Molto bella. Ha ributtato giù il cappuccino. Quanto mi piace il cappuccino. Oddio questo cappuccino. Guarda, ma io la regalo a lei il cappuccino. No, c'è una cliente che la vuole, credo. Se non va a pigliare voi, me la piglio io. Cappuccino. Allora, facciamo un patto. Se non me la prendete, cappuccino, io vi avviso, me la porto via. Quindi scrivete a Katia, perché se no alla fine delle sette e mezza me la porto via. Bella, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Mi piace tanto sta blusa. Sì. Bella. Ok. C'ho il fango in mezzo. Poi. Bellina. Ci c'è da un po' di questo. Sei molto gentile. Abbiamo clienti gentili. Gentile. Ma guarda che pure lei ne combina. Che bel bene. Ne combini? Allora ci piaci. Allora ci piaci. Allora fai per me. Taglia unica. Yes. Bello pure arancio così, lungo. Quanto elegante. Hashtag mi piace tutto. Hashtag pure questo. Bello. Mi piace. Mi piace un sacco. Hashtag è bellissimo col cuoio. C'ha lo spacco? Muy sexy. Ci piace. Vita alta. Vita alta e spacchettone. Mi piace. Bene. Quella gonna è per te. Io l'ho già presa adesso. E mi immaginavo. E ce l'ho anche una simile. Perché io le porto così. No, che bella. Questa amore. Amore. L'ho fatto vedere tutto. Ma che hai rimesso il toppino a po' arancio? Ah, guarda quanto è carino. Lo so, l'ho vista addosso a tua madre. Ma questo c'ha le spalline. Tira lo su questo doppino. Sì, certo. C'ha le spalline. Che è sta combo? Meravigliosa combo. Fantastica. Mi piace da matti. Katia. Anche questo provare a casa. No amore. Te sta meglio con l'altro. Meglio quello con i fiorellini. Sì, sì. Mi piace? Molto. Tutte e tre. Portare a casa cose. Io fare foto. Provare tutto io. E portare via tutto quanto il negozio. No, vabbè. Sì, no, vabbè. E' come ripresa il no, vabbè. Che abbinamento. No, vabbè. Ragazzi, il pantalone a righe ha per caso anche il blazer. Ci puoi mettere la giacca grigia, cara. Ma come Katia? La giacca che hai presa però ci sta bene. Io non farei tutta a righe tipo carcerato. Ti dovessi dire. Io farei questo pantalone con quella giacca che adesso Katia ci prenderà di nuovo. Again. Again, Katia. Please. Ok? Try again. Ok. Ottimus. E questo mi piace. Mi piace più questo pure a me come ti sta. Perché l'azzurro ti dona i tuoi capelli rossi. Quindi, ragazze, questa è la coppiata vincente. Giusto? Giordana, confermi che potrete fare tipo effetto carcerato? Mi piace tutto. Mi porto a casa. Questa gonna con il top, con lo sfacco, color sabbia che mi fa morire. Dopodiché, penso di portare quelle cose con i po' arancio, non arancio. Mi tira parecchio la faccenda e me li porto a casa. I sabelli sono anche quei pantaloni da abbinare perché sono molto freschi e leggeri. Giusto? Giusto. Mi sei piaciuta, Lori. Mi sei piaciuta. Anzi, Giordana. Era Giordana che faceva le coppi. Perché ormai c'è in bocca Loredana per sempre che mi ha abbandonato. Non c'è più Loredana, mi ha abbandonato. Che fa... Ah, ma vedi che sta maglia sta bene anche con questo? Eh, caglia, insomma, no? Ci metti la cinta, sennò paghi più la sarta del vestito. Giusto? Abitini in sangallo, no, non li ha presi per il momento. Perché poi ne abbiamo visti tanti in giro. Però te ne farò vedere io magari in giro, insomma. Però se caglia li prende saremo tutti più contenti perché ovviamente fa un super low cost. Bello anche questo di top. Bello anche l'arancio col blu. L'abito per le donne è curvi e anche per le donne un po' più grandi, secondo me. Per l'ufficio è meraviglioso. Con la borsa a cappuccino. Ragazzi, se non prendete la borsa a cappuccino, attenzione, attenzione. Non vedo qui la... Grazie a lettini a farti vedere. No, ma adesso provvedo. Provvedi? Che belli, Katia. Non so per dirsi. Mi piacciono. E questo con le stelline, e questo con i brillantini, e questo con le stelline, bucate, stelline, brillantini. E questo cos'è? Di bufiocchetto. È particolare questo, lo sai? È più bello a vederlo al polso che così. Adesso te lo faccio vedere. Mi colpisse, codesto e codesto. Ci ha messo le mani. E che devo fare? Dai, non le devo coppia, giuro che lo farò. Guarda che bello. Sì, mi piace. Ti sfido e ti dico, scommetti che non ce lo fai a fare questa cosa. Adoro i braccialetti. Guarda quanto è pieno dei braccialetti. Vi entrare con una cosciuta. Come sei. Esatto, ma io quando mi metto in testa una cosciuta, questo è bellissimo, mi piace da matti. Ma io erano cinque anni che le trattavo male queste mani. Io sono un anno che le trattavo male, basta. Basta, e ecco qua. Io pure, se dico basta, poi è basta. Una settimana. Mi piace anche il tuo anello, breve. Però questo prende tutto Katia, tutti i bracciali che vedete li rende Katia. Bello, bello. Anche quelli simili. Come si chiama? Ma sai che l'altro giorno sono alla magazzina a prendere questi. Il ragazzo mi si avvicina e fa... Quanti ce n'hai? No, mi fa, ma quello che hai preso adesso, mo' ho guardato. Che intendi dire che te l'ho rubata? Ma che veramente? Te giuro. Ma che sei pazzo? Che intendi dire? Infatti vuoi che ti faccio licenziare? Gli ho detto. Ma stiamo scherzando? Cioè, non c'è più religione. Oh, ma ce l'ho tutti a doce. Sono tutti loro questi. Ma che è matto questo? Vabbè, era appena... Era nuovo purello. Non me lo far sentire perché io la faccio licenziare in cinque secondi. Via! Stangata, purello un corno. Ti ha dato della ladra. Chissà come mai ero buona quel giorno. Sì, pure, quando sto calma meglio per loro perché sennò diventa una bella. Sì, no, ma so guardare la faccia che puoi essere licenziato. Dov'è Cappuccino? Dov'è nascosto? Cappuccino è installato a 3. Ragazzi, ve lo dico, se non prendete Cappuccino ma più io. Cappuccino, non Cappuccino. Tu verrai a casa con me. Quella cosa che hai fatto vedere lunga e meravigliosa. Ok. Oh, Terry. Con i jeans strappati, donna. Allora, ragazze, a questo punto noi abbiamo terminato la diretta. Vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Probabilmente un tryon. Siamo state tranquille oggi, eh? Siamo state tranquille, eh? Ma perché ce l'avete chiesto la prossima volta? No, non saremo tranquille. E ci parleremo sola, sopra. Esatto. Tu non dovrai farmi parlare. No, io dovrò parlare allora. No, io dovrò parlare allora. Esatto. Ok. Copertina e poi saluti. Ciao. Ciao ragazze.